In questa puntata, manovra di bilancio 2023-2025, scuole di musica. Una manovra importante che tiene conto della grave crisi economica, che serve a dare risposte alla Toscana sin dal 1 gennaio 2023. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. sempre detto, il lavoro, la salute, il sociale, gli investimenti sono le nostre priorità. Inizia una manovra di bilancio importante, un consolidato rapporto di fiducia fra Italia Via e il Partito Democratico è sicuramente un elemento positivo, bisogna fare ancora meglio, si può migliorare, una battaglia che sto seguendo in prima persona, quella di incrementare le risorse a favore delle famiglie con disabili, bisogna trovare in ogni modo 2 milioni di euro per dare una risposta importante alle famiglie che hanno un minore disabile, nel contempo una battaglia vinta da Italia Viva, quella di arrivare in bilancio senza nessun aumento di tasse, non viene aumentata l'addizionale IRPEF, non viene aumentato il bollo auto, è una battaglia che noi abbiamo portato avanti anche al cospetto dei nostri alleati che ci hanno dato ragione. Mancano i piani regionali sull'energia, sull'ambiente, si fanno tante chiacchiere per esempio con gli stati generali, da un lato si fa gli stati generali della salute, poi si fanno gli stati generali dello sport, poi si fanno gli stati generali della cultura, poi si fanno gli stati generali dell'ambiente, ma non si fa quello che dovremmo fare da legislatori della regione toscana, cioè intervenire sugli atti e fare i piani e legiferare. Se per esempio il piano regionale sulla sanità del 2015 non funziona perché vediamo chiaramente che il sistema non funziona e lo vediamo in primis dalle liste d'attesa, bisogna lavorare sul nuovo piano sanitario regionale, quindi non si sta lavorando in maniera seria ma si sta navigando nuovamente a vista. Hanno lasciato i funzionari a spiegarci degli aspetti tecnici, se poi andiamo a guardare i contenuti, tralasciando il metodo, andiamo a vedere che si tratta di una riproposizione di vecchi progetti che si trascinano da anni e che vengono spostati di anno in anno, con l'aggiunta dei bollini colorati dei goals dell'agenda 2030 dell'Unione Europea, come a fare una sorta di macchiage per far vedere che in realtà seguiamo quelle che sono le indicazioni dell'Unione Europea. Ad una lettura appena più attenta si vede in realtà che la regione toscana ancora naviga a vista su quasi tutti i fronti. C'è da dire che di fondo si registra uno squilibrio di parte corrente per 150 milioni che viene compensato con lo spondamento di alcune politiche di spesa che però verranno tutte recuperate con la nuova programmazione comunitaria che prenderà il via dall'anno prossimo. Ci sono una serie di risorse importanti che vengono incrementate, sono circa 427 milioni di euro quelli che vengono ad aggiungersi al fondo sanitario. quindi avremo una dotazione maggiore da questo punto di vista ma c'è anche un incremento di 850 milioni di euro sulle risorse comunitarie previste per il periodo 2021-2027, un incremento sensibile di risorse provenienti dal PNRR e 109 milioni di spesa in conto capitale che vengono da risorse regionali. Mi sembra che possiamo dirci soddisfatti. Molte delle poste in gioco rilevanti sulla parte di spesa corrente verranno rinviate alla prima variazione ma il bilancio di investimento soprattutto sul fronte pluriennale è importante, fa ben sperare e ci fa immaginare un futuro di lavoro e di opportunità di crescita per la nostra Toscana nella quale la cultura rimane sempre al centro e protagonista. La posizione del nostro gruppo è un appello al Presidente Gianni nel senso di responsabilità, nel senso di collaborazione anche con le opposizioni. Il bilancio è arrivato in Consiglio regionale, all'attenzione del Consiglio regionale soltanto dieci giorni fa, un bilancio importante, un collegato importante, una legge di stabilità importante e non si può accettare che l'opposizione abbia soltanto dieci giorni per analizzare la manovra più importante dell'anno. Noi abbiamo chiesto rispetto delle regole, rispetto del nostro regolamento, del nostro statuto perché il nostro lavoro di garanzia, di controllo, il ruolo che hanno scelto per noi i cittadini toscani merita rispetto. Quindi noi siamo disposti anche a concludere la nostra battaglia con la miriade di emendamenti e ordini del giorno che abbiamo presentato soltanto che oltre all'attenzione ulteriore verso i disabili Maggiani faccia un'ammenda e dica al Consiglio regionale che da oggi in poi il lavoro del Consiglio sarà nel rispetto delle regole, nel rispetto e in garanzia soprattutto delle opposizioni. Altrimenti continueremo la nostra battaglia. Un amore bilancio che arriva naturalmente come sempre in tempi stretti. Questa volta veramente siamo stati travolti da una serie di documenti, a cominciare dalla nota di aggiornamento al DEF, da tutta una serie poi di interventi che sono stati portati dalla Giunta. Quindi ci aspetta un esame assolutamente approfondito. La questione è sempre la stessa. Siamo di fronte anche qui a un'assenza ancora del piano regionale di sviluppo. Naturalmente una partita importante sicuramente già fin da ora la possiamo dire riguardo agli enti locali. Personalmente ho ritenuto opportuno in una fase anche di particolare criticità, ho tenuto conto anche delle difficoltà degli stessi comuni, di molti comuni, di arrivare anche a completare alcune opere importanti legate al PNRR. Oggi c'è bisogno di dare un segnale concreto. Ecco perché tra le migliaia di emendamenti dei miei colleghi ho preferito focalizzarmi su tre situazioni che ritengo importanti. La prima è sicuramente quella di dare sostegno a quei comuni intermedi fino ai 20.000 abitanti che oggi allo stesso modo dei piccoli comuni necessitano di un sostegno approfondito sul fronte degli investimenti. Dall'altro ripropongo un tema che ho sostenuto già con forza che sono i 9 milioni derivanti dall'aumento sostanzialmente del bollo auto che io insisto vengano poi destinate all'efficientamento delle imprese. Questi sono i temi su cui intendo lavorare e cercare di capire se ci può essere una convergenza ampia in Consiglio regionale. È una manovra di bilancio che, come abbiamo avuto modo di dire, arriva senza che siano stati rispettati i tempi necessari affinché chiunque, non soltanto le opposizioni, ma chiunque potesse leggere e capire in maniera seria cosa stessimo per votare. Non a caso, non è una nostra supposizione, ma l'Aula si blocca e riparte continuamente, non riesce nemmeno a sviluppare in maniera seria il lavoro perché, come sempre, i bilanci arrivano e dopo quattro ore si pretende che i consiglieri li votino senza conoscerne i contenuti. Quando abbiamo visto i contenuti abbiamo visto una serie di spot fini a se stessi, investimenti che è difficile anche giudicare se sono giusti o sbagliati. Faccio un esempio. Se si destina un milione di euro al rifacimento di un cinema e si specifica il cinema del Comune X, chiunque di noi dovrebbe avere il tempo tecnico di confrontarsi con i nostri referenti sul territorio, con i consiglieri comunali e capire se quello stanziamento ha un senso oppure se sarebbe meglio destinarlo al cinema Y. Una regione non deve fare questo. Una regione deve pensare a stanziare dei fondi per i cinema in generale. Poi saranno i singoli comuni che si candideranno, che si proporranno per ristrutturare i propri cinema. Se si fanno interventi spot diventa difficile giudicare se sono fatti bene o male. E la Giunta Gianni ormai ci ha abituato a questo tipo di ragionamento. Noi abbiamo presentato oltre mille emendamenti, cercando di riportare questa manovra in un contesto per noi più consono. Vediamo quanti saranno accettati, come si svilupperà il dibattito. Abbiamo già fatto una nottata fino alle tre in aula. Speriamo di mangiare il panettone con le nostre famiglie e non nella sala del Palazzo del Pegaso. Musica in Toscana 500 scuole, 65.000 allievi e 6.800 maestri. Come diciamo buona parte del lavoro e del tipo di formazione nel campo della cultura anche nel settore musicale c'è stata una chiusura totale. Quindi ripartire è sempre estremamente difficile per tutti ma in modo particolare per chi si trova ad avere un ruolo che è molto importante dal punto di vista proprio della promozione della persona e anche della formazione ma che non è recepito e non è vissuto a livello generale, molto generale ma anche un po' particolare, come essenziale. Arrivano richieste che abbiamo a più riprese, affrontato e per le quali stiamo cercando soluzioni e sono di due tipi, a parte il sostegno generico, i finanziamenti e i progetti dedicati una esigenza fondamentale alla quale stiamo lavorando è quella dell'accreditamento. Cioè le scuole di musica sono le prime a chiedere che vengano individuati criteri e parametri di qualità in modo da non essere confuse con chi genericamente in modo improvvisato offre una formazione musicale ma da poter stabilire un requisito di accreditamento per le scuole che hanno rapporto con le istituzioni pubbliche e spesso si sentono in uno spirito, in linea con il principio di sussidiarietà che sappiamo ha rilevanza costituzionale, veri e propri collaboratori nell'erogazione del servizio formativo sul territorio nazionale e locale. E quindi su questi temi lavoreremo nei prossimi mesi oltre che appunto a favorire l'aumento dei finanziamenti e il sostegno più generico ai progetti delle scuole di musica. L'associazione delle scuole di musica è nata in Toscana negli anni Ottanta, perciò noi la sede è a Prato, presso la scuola di musica del comune di Prato, perciò voglio dire l'AISM è nata perché c'è stata la Toscana che è stata anticipata, è stata anticipatrice. Poi adesso è diventata più nazionale, stiamo cercando di regionalizzare l'associazione, c'è l'associazione in Emilia Romagna, nel Lazio, adesso in Toscana, in Lombardia, stiamo cercando perché la regione è quell'istituzione più vicina, che abbiamo più facilità nell'essere non più trasparente, perché uno dei problemi che abbiamo è la trasparenza, ma non nel senso deterioro del termine, nel senso che non ci considerano, mentre le regioni credo che da questo punto di vista siano molto più attente.